L'amicizia deve essere una cosa pura, naturale, una cosa chiara, anche bella quando ti confronti, no? Ci possono essere degli equivoci, l'amicizia è quella. Alessandro Siani sceglie Napoli per presentare il suo nuovo film tramite Amicizia, pellicola da domani nei cinema che tratta il tema della vera amicizia. Sempre è bello sapere un amico cosa pensa di te, soprattutto se lo fa guardandoti negli occhi e non lasciandoti un whatsapp. La mitica io e te dobbiamo parlare, non so da perdere, con io e te dobbiamo chattare. Lorenzo, interpretato da Alessandro Siani, è il proprietario di un'agenzia tramite Amicizia che offre amici a noleggio, ma tra gag e colpi di scena i film tocca anche temi come il lavoro. Ci sono persone che a 50 anni perdono il lavoro, sono persone che a fine 50 non lo riescono a trovare. È un momento difficile, si parla spesso del reddito di cittadinanza, magari si può modificare, si possono fare come in ogni cosa, ci possono essere delle cose che possono essere migliorate. Ma in questo momento il problema non è togliere il reddito di cittadinanza, in questo momento il problema è trovare il lavoro. Quindi troviamo quella soluzione perché altrimenti la gente continuerà a lasciare il paese e il problema non sarà più il reddito ma la cittadinanza. Con lui a Napoli altri due protagonisti del film, Max Tortora e Matilde Gioli. Credo che ci siano tantissime cose da scoprire. Ero un appassionata come me di questa città, di questa regione in generale, cioè io sono un amante proprio della campagna. L'incontro con la stampa diventa così ancora una volta l'occasione per raccontare Napoli e per raccontarsi immaginando anche nuovi ruoli. Una figura che scomparse, il pacere, quello che arrivava e metteva parte.